non so se c'è qualcosa a mangiato in questo stash vedi player? dove? batte audio stai facendo il chino stai sprando a me arrivo io sotto luca stai parlando assai luca tu sei sopra tasti aspetta c'è il player preso dove? dove è il player? l'ho beccato cazzo non è morto mi dici dove è il player? è a farmacia ora sono giù io eh? si salgo fuck no devo andare a pigliare lo vado a prendere o no fra? che dici? fra come vuoi? l'altro a me se verrebbe cibo tu ce l'hai cibo frai non te l'ho preso da acqua scusami è fracco non ce l'ho scusami scusami è fracco non ce l'ho scusami no non ci credo fra questo l'ho droppato fra lo scappo non lo vede l'ho droppato fra l'ho droppato l'ho droppato livello 16 l'ho preso in testa fra l'ho droppato